Attenzione, questo è il primo video del signor Regolo, quindi siete pregati di non caccare la minchia per la bassa qualità. Se questo video arriva a 100 like e commentate con hashtag smoker pelato, lo smoker farà un video dove si raserà a zero i capelli. Se entro fine maggio il canale raggiunge i 1000 iscritti e commentate con hashtag smoker sbarbato, lo smoker farà un video dove si raserà a zero la barba. Quindi scassate il pulsante like e il pulsante iscritti e vai con la motherfucking new sigla! Quest'oggi facciamo civali medieval warfare, onestamente non ho la benché minima idea di cosa sia, lo smoker mi ha chiamato e ha detto no, lo devi scaricare Regolo, mi raccomando, se no poi diventa appagamento. Vabbè, comunque, a quanto ho capito, io ho fatto giusto un pochettino l'addessamento e i risultati sono stati abbastanza agghiaccianti. Però, a quanto ho capito, non si parla altro che di una specie di combattimento in chiave medievale, prima persona, action... Cioè, per certi versi mi ha ricordato anche molto gli hack and slash, però vediamo in partita com'è effettivamente. Però, a primo impatto, mi è venuto in mente quello. Allora, vediamo un attimo il menu. Cioè, unisce la partita, crea la partita, addessamento, personalizzazione che sta lampeggiando... E... Quanto sei brutto! Babba mia bella, quanto sei brutto! Tu sei un po' più figo. Te sei uguale a quell'altro soltanto in celeste. Mamma mia, vabbè. Non mi ricordo niente dell'addessamento, anche perché è stato abbastanza tragico. E viva Shivaldi! Tutto a me... Tutto a me... Aia! E muoori! Eh, va bene! Però, uno l'ho ucciso, uno l'ho ucciso. Ma è lento di una moto. Eh, va bene. Però, uno l'ho ucciso, uno l'ho ucciso. Oh, già, sconfitta! What the fuck?! Eh, ma non vale, no. C'è... C'è... 150 contro 5. E' triste. Ho perso. Prima partita ho perso. Ma non è vero, perché una kill l'ho fatta, una l'ho fatta, una l'ho data. Triste. Vedete? Questi sono i giochi che mi consiglia lo Smoker, capite? Ovviamente, rosso. Non ho nemmeno visto cosa ho selezionato, che stai. Ciò ballò. Che sono sti rumori bruttissimi?! Eh, ecco. Stanno arrivando. Eh, andate prima voi. Andate prima voi. Io credi voi. Ecco qua. Entriamo. Bene. Ecco qua, l'ho ucciso. Madonna. Vedete se non recupera la vita. No, assolutamente non recupera la vita. No. 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 Vaffan... Folla France. Colpa mia, non ho anicchiato le gambe. Chi coglie questa eccitazione è un grande. No. 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 No o no. Yes, appicca abbiamo salvo. Vai a 100jä. Molto. Chi è, chi è, chi è... Qualche stronzo fo le flash. Eccolo, no. donc esquivisio come si recupera la vita. Oh, oh. Ecco. guardate amici miei piccoli non mi chiede bu eh ma non vale che mazzare a livello di ignoranza questo gioco è veramente qualcosa di particolare spara con i cannoni abbatte il cancello dove cazzo sono i cannoni ecco qua questa è la fine che ti metti il mio ve lo so spero che non ci sia il fren di farlo andiamo a spingere la vita aia tua madre ballerina tirata una pesce a destubare e se c'è la madre ballerina non è colpa di nessuno e la diritta al cazzo metto il giro e non vale niente cosa è successo? soltanto che l'ho ucciso tanto sti cazzazzo ne avete rotto le scuole che cazzo è morto guarda come l'ho lanciato bello ok ora mi sto qua zitto zitto no start my heart start my heart come stavo dicendo non c'è la merce di qua nooo trist non te la prendere così dai può andare peggio eh vedi come non riuscirà proprio il giro ora va peggio no muori no mu... mu... muori male Cioè quella era cazzimma però Quella si è lanciata La cosa è di infiamme sui piedi Che figlio Di santissima trinità Dai questo lo vedo più Più positivo Tua madre Mamma Mamma Che traducendo Ho la mamma tanto brutta Tanto brutta veramente Oh sono dei tuoi Quella è la mia testa Ouch Quanta ignoranza in questa azione No io voglio nei commenti Voglio sapere quanto vi è sembrato ignorante La scala da 1 a 10 Capito L'ordine dei mazzoni è vittorioso Allora 11 uccisioni 11 morti 6 assists Oh però Non mi rendo scherzando Sono stato uno dei più Che si è fatto più notare E c'è il ping a 150 Poi io giocavo Overwatch col ping a 20 Che sta storia Tiriamo le conclusioni di questo Che si è fatto più notare Che si è fatto più notare E' divertente Non posso dire Che non è divertente Però è un gioco Di un'ignoranza spaventosa Un gioco proprio Ignorante forte E' divertente Si Per passare Un pomeriggio Così Senza pensare a niente Un gran bel gioco Tecnicamente parlando Mi è appena arrivata Una freccia nel cuore No Tecnicamente parlando Fa un po' Pietace Non ci sono musiche I rumori di background Sono abbastanza agghiaccianti Le tesserotolano La grafica è quello che è C'è poco da dire Però Bisogna dire la verità E' divertente Ha del potenziale Magari Si spera In qualche aggiornamento In cui Iota Sono della tua Cacchio di squadra No 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 Ma dai dovevamo dire Comunque No ragazzi è un gioco fa bruttissimo cioè onestamente se non era gratis non l'avrei mai scaricato in vita mia speriamo che magari infatti è questo, che sia uno di quei classici giochi che ha del potenziale ovviamente perché secondo me è sviluppato un pochino meglio, con qualche modalità più divertente non dico una modalità storia perché sarebbe troppa grazia, però oddio mio dove cacchio si vuoi scappare eh, ve lo vedete mi dà questi piccoli momenti di risale bellissimi mentre signale no l ma vedo che non sono il solo però che ha problemi con il compagno medievale effettivamente non ci sia anche perchè prendo un po' di schermo medievale so effettivamente che non è un problema così comunque ragazzi che vi voglio dire un gioco divertente ma mediocre non vi aspettate niente di che effettivamente non è nemmeno pretenzioso è un gioco così per perdere tempo come primo video penso che abbiamo finito ora mi finisco di fare questa battitella perchè non intendo un cacchio da fare al momento e il prossimo video speriamo di portare qualcosa di più interessante magari non me la faccio scegliere dallo smoker perchè non me la faccio se scegliere dallo smoker e detto questo signori cari un saluto a tutti quanti mi raccomando mettete mi piace commentate 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 condividete e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao